Innanzitutto vale quanto dicevo, anche Giacchetti dovrebbe essere consapevole che sta in Parlamento su un programma che ha preso 8 milioni e mezzo di voti con il quale sul lavoro e sulla scuola o sulla Costituzione le indicazioni erano piuttosto diverse. Dopodiché vi sono materi come la Costituzione o la legge elettorale sulle quali la disciplina di partito credo si faccia un po' fatica ad affermare come principio assoluto.